Ciao ragazzi, ieri da Amazon ho ordinato un bello oggetto tipico giapponese, ho aspettato l'estate per ordinarlo. Si tratta del Furin. Apriamoli insieme. La cosa simpatica che ieri l'ho ordinato e oggi mi è arrivato, senza Amazon Prime. Ed eccolo qui. Che carino. Ci sono i gattini. Anche qui. Adesso non mi resta che appenderlo. Visto che siamo in estate e dal dolce suono del Furin ci accompagna un bel bicchiere di tè. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao! 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 Ciao!